E continuiamo a parlare di presepi viventi. Torna ad Andrea notte di luce a cura dell'Associazione Andriese Madonna dei Miracoli. Consegnato ieri anche lo spirometro portatile destinato al reparto di pediatria dell'ospedale Bonomo di Andrea. Sentiamo i dettagli nel servizio. Torna ad Andrea nella Valle di Santa Margherita, nei pressi della Basilica di Santa Maria dei Miracoli, il presepe vivente notte di luce, giunto alla sua dodicesima edizione. L'iniziativa è stata proposta, come ogni anno, dall'Associazione Madonna dei Miracoli. La dodicesima edizione è quella che effettivamente interrompe la pausa dovuta dal Covid, perché l'anno scorso purtroppo questa tradizione si è interrotta. Prevede semplicemente degli appuntamenti nella Valle di Santa Margherita per quanto riguarda il presepe vivente, organizzato dall'Associazione Madonna dei Miracoli con la direzione artistica della Latin American Style. Mi preme anche sottolineare che l'adattamento dei testi sacri è fatto da Don Ettore Lestingi. Gli appuntamenti sono il 26 dicembre, il 2, 6, 8 e 9 gennaio, dalle ore 17 alle ore 20 e 30. Mi preme anche sottolineare il fatto che gli accessi saranno ovviamente regolarizzati con il Green Pass, così come anche i figuranti e gli operatori ne sono insomma dotati. L'Associazione Andriese in occasione della conferenza stampa di presentazione del presepe vivente ha ufficializzato anche la consegna di uno spirometro portatile destinato al reparto pediatria dell'ospedale Bonomo di Andrea, grazie alla raccolta fondi ottenuta attraverso la manifestazione, una partita per partire il quadrangolare di calcio a scopo benefico che si è svolto nei mesi scorsi. Queste iniziative ci fanno sentire quanto la collettività che sta e lavora dietro, in completo anonimato però sentendo diciamo quello che è lo spirito di creare un punto di riferimento, l'ospedale con il territorio ovviamente ci rappresenta la sua presenza e l'attenzione per quanto viene rivolto in modo particolare a pazienti, soggetti ultra fragili quali possono essere i bambini. Un meraviglioso gesto, il dottor Sinigaglia che mi ha preceduto praticamente ha esaurito tutto quello che avrei voluto dire però quello che mi preme sottolineare è che la comunità andriese è sempre molto, io lavoro qua da 29 anni praticamente e mi sento naturalizzata andriese ed è sempre molto vicina, sempre molto accogliente e ha questo dono appunto di essere vicina anche alle esigenze dei bambini soprattutto e questo dono da parte dell'associazione Madonna dei Miracoli è veramente una cosa che ci riempie di gioia, sarà utilizzata nel migliore dei modi e c'è tutta la nostra gratitudine nei loro confronti.